E' durata due giorni la fuga del serial killer, l'hanno trovato in Francia a Mentone davanti all'hotel Parisienne, 5 minuti dalla frontiera. Gli inquirenti erano sulle tracce di Bartolomeo Gagliano già da martedì scorso quando l'evaso a bordo della Fiat Panda Van Verde di proprietà del panettiere che aveva sequestrato poche ore prima era stato ripreso dalle telecamere di sicurezza del casello di Ventimiglia dove non aveva tra l'altro pagato il pedaggio. Pocche ore più tardi poi un autovelox vicino a Nizza gli aveva anche scattato una foto per eccesso di velocità. Pare che al momento dell'arresto abbia detto è stato un colpo di testa, mi dispiace. Un gesto, quello della fuga, di cui evidentemente si era pentito. Poche ore prima di essere arrestato dalla gendarmeria francese infatti aveva chiamato il suo avvocato. Si sarebbero dovuti incontrare ieri pomeriggio nel ponente Ligure. Voleva costituirsi. Nella sua camera hanno trovato una pistola, una 7,65 col colpo in canna e anche numerose munizioni. Ora è stato portato a Nizza dove ci sarà l'udienza in tribunale per l'estradizione. Gagliano, in ogni caso, non si opporrà a tornare in carcere in Italia. Se tornerà in quello di Marassi a Genova non troverà però il suo direttore, Salvatore Mazzeo. Il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria ha aperto un'inchiesta interna per le dichiarazioni di Mazzeo, la stampa, ed avviato la procedura di trasferimento al provveditorato generale della Liguria. Il direttore aveva detto che non conosceva la storia dell'evaso. Sia in carcere sia al tribunale di sorveglianza invece erano a conoscenza del curriculum criminale del pluriomicida. Lo ha confermato questa mattina il ministro Cancellieri con un'informativa. A Gagliano mancava solo un anno di detenzione, solo un anno e sarebbe tornato in libertà. Il permesso premio che gli era stato concesso serviva proprio per riabituarlo alla vita sociale. Ora invece è accusato di evasione, sequestro di persone e porto abusivo d'armi.